Che la politica vada rifondata e vada riempita di valori, di ideali per cui la gente, i cittadini, i lavoratori, donne e uomini possano ritrovarsi in un progetto politico che difende i propri diritti e le proprie condizioni materiali. Per riformare tutto questo non è certo possibile depotenziare il Parlamento, anzi bisognerebbe fare il contrario, potenziare di potere il Parlamento in modo che si possa riprogettare. Qui l'unico progetto che a mio avviso è coerente con una riforma che non condivido e che va combattuta con tutte le forze necessarie è una forza che vede il cambio della Repubblica, da parlamentare a Repubblica, ma la nostra è una Repubblica parlamentare. Quindi i governi nascono nel Parlamento e quest'idea della governabilità è un'idea artefiziosa e strumentale a chi vuole cambiare le cose in senso di autorità. In senso di autorità non abbiamo più i manganelli, ma abbiamo altri mezzi che fossero più potenti dei manganelli di cent'anni fa.